Cari verbanesi, stiamo attraversando una fase nuova della nostra vita individuale e collettiva che ci accompagnerà nel tempo. Ogni giorno agiamo concretamente per aiutare le persone in difficoltà e stiamo seguendo oltre 900 famiglie. Allo stesso tempo dobbiamo programmare il futuro economico da costruire insieme. Il contagio sta rallentando, anche a Verbagna crescono i guariti, vi è una drastica riduzione delle persone che si ammalano di questo virus cattivo e infido, ma non possiamo abbassare la guardia. Questi risultati confortanti grazie al lavoro incomiabile del personale sanitario hanno bisogno di venire rafforzati in questi giorni. Come sapete dal 4 di maggio e fino al 18, quando il governo prenderà magari in maniera differenziata per regione, territorio, altre decisioni, riapre l'industria, la manifattura, le commerciali in grosso, i cantieri edili e questo è molto utile per la ripresa economica. Ciascuno di noi deve sforzarsi di continuare ad essere responsabile e di rispettare le norme igienico-sanitarie, lavarsi frequentemente le mani, usare le mascherine. Ne abbiamo consegnate oltre 25.000 come comune arrivando al 90% della popolazione e dalla prossima settimana il primo stock di mascherine giunto dalla regione verrà distribuito in città. La vita all'aperto può riprendere e penso soprattutto ai bambini che da 50 giorni sono chiusi in casa. Quindi parchi pubblici, giardini devono tornare ad essere vissuti seppur senza alcun sembramento e col distanziamento fisico dai bambini, dai ragazzi e dalle persone che hanno disabilità, da tutte le categorie e i cittadini che più hanno sofferto in questo periodo di chiusura. Potremmo fare attività fisica, sportiva, ma l'invito che rivolgo è quello di pensare ogni volta che usciamo di casa rischio potenziale che corriamo e quindi di continuare a manifestare senso civico anche nell'aiuto che ciascuno di voi dà a persone, conoscenti, amici che sa essere in difficoltà. Sono tanti e belli i gesti di generosità di cui abbiamo conoscenza e vi invito a continuare in questa direzione perché la rete di solidarietà e di volontariato è stata finora un elemento positivo. Il versante economico è quello che impone una urgenza nell'azione. Il settore turistico va sostenuto dal governo e dalla regione in modo agile perché sono troppe le complicazioni burocratiche che stanno impedendo di realizzare i fondi e gli interventi già programmate. Penso alla cassa integrazione che sta arrivando troppo lentamente sul nostro territorio. Ci facciamo parte attiva per sostenere le piccole attività e penso all'azzeramento della COSAP e all'estensione dei plateatici con la riapertura dal primo di giugno. Il comune non può fare tutto, non può peccare di presunzione ma non può neanche limitarsi a dire che non tocca a lui. Pertanto abbiamo istituito con la generosità di molti un fondo verbania solidale a cui far arrivare il sostegno soprattutto per le famiglie e per le imprese già dalla prossima settimana e avviamo con grande celerità, con grande intensità le opere pubbliche previste in modo da creare condizioni per lo sviluppo. Le storie di sofferenza, di preoccupazione che ogni giorno mi raccontate e su cui cerco di essere attiva e presente impongono un'intensità di azione urgente, rapida e utile.